Ciao a tutti, oggi sarà il video della collaborazione mensile con la mia amica Antonella del canale Sole di Sicilia, perché ha seguito il tag dello scorso mese e dicevo appunto che avevamo pensato con Antonella di fare una collaborazione mensile che può variare, in questo caso sarà di nuovo un tag, siccome c'è la vicinanza del Natale, quindi abbiamo pensato di fare un tag di Natale che abbiamo creato insieme, da solito vi faccio passare qua il suo canale, ma sicuramente già la conoscerete tutti, ha anche un canale di ASMR, quindi ecco l'agenda dei tag e cominceremo a dire appunto il tag inventato da me e da Antonella, il tag di Natale. Sono 16 domande di cui l'ultima proprio tagga chi vuoi. Prima domanda, cosa significa per te il Natale? Allora, per me il Natale principalmente significa famiglia, penso che sia un po' per tutti così, quando c'erano i nonni era tipo la famiglia riunita, magari adesso anche, però quando mancano i nonni diciamo in genere si sgretola un po' questa festività passata in famiglia, comunque mi ricorda, per me significa la famiglia. Seconda domanda, qual è stato il primo regalo che ricordi aver ricevuto? Allora, il primo ricordo di un regalo natalizio è un televisorino di quando avevo circa 4 anni, era uno dei primi televisorini proprio piccoletto così, dove si mettevano delle specie di bobbine dietro e partiva la registrazione, erano proprio cose sperimentali e io mi ricordo che ero stata felicissima di aver avuto questo televisorino, mi dispiace non averlo più perché ve l'avrei fatto vedere volentieri. Terza domanda, ed il primo che invece hai fatto tu? Allora, il primo che ho fatto io è stato una collana per mia madre, una collana, sapete un filo normale con la pasta che avevo colorato e che faceva tipo da pietre. Quarta domanda, il tuo addobbo natalizio preferito? Allora, credo che un addobbo senza i fili classici di Natale non è un addobbo, è quella specie che sembra un boa, quelli tutti colorati. Quinta domanda, albero o presepe? Sia albero che presepe. Sesta domanda, hai tradizioni per la vigilia di Natale? Allora, non ho molte tradizioni per quanto riguarda insomma proprio la vigilia del Natale, una di queste è quella che mio padre compra biscotti oppure dolcini vari, la frutta secca e poi si mettono in un cestino di quello di vimini, tutti proprio per, diciamo, per allegrare la tavola, come augurio. Settima domanda, cena da passare in casa o fuori? Allora, per me è casa, passare appunto la vigilia a casa, davanti alla tv, no, non mi piace tanto il giocare a tombola, magari prima appunto quando c'erano i nonni, quando c'era mio zio, sì, la tombolata, la classica tombolata sì, ma adesso no. Fino ad alcuni anni fa facevano proprio le maratone dei film di Natale, specialmente quelli americani e io mi piaceva vederli tutti, tutti quelli che proponevano me li vedevo. Ottava domanda, vacanze bianche o vacanze con la famiglia? Direi vacanze bianche insieme alla famiglia. Adorni la casa? Sì, e quest'anno devo, cioè ho comprato dai cinesi alcuni fili nuovi, proprio questi boa che vi dicevo, di tanti colori e la voglio adornare veramente, vorrei fare come le case americane. Se adorni la casa, come la adorni? Allora, io metto, a parte l'albero, il presepe, metto le luci in alcuni punti strategici, tipo i mobili più grandi, oppure attorno alle porte della casa, metto appunto questi boa, che non so come si chiamano, fili di Natale, insomma boa. Undicesima domanda, outfit natalizio? Allora, deve essere comodo, anche perché sì, sono belle quelle vestiti proprio belli, rossi, però per chi magari prepara le cose, diciamo è un po', come dire, pesante mettere un outfit un po' particolare. Quello mi piace di più per il Capodanno, che è una si veste un po' più, qui si dice, allecchettata. Allora, la mia canzone preferita di Natale? Allora, sono tantissime. Ovviamente quelle più belle sono White Christmas, oppure ad Este Fidelis, sono quelle più particolari per me, quindi questa canzone. E poi quella che fa bianco, rosso e lagri, foglio, shalalalala, lalalalala. Questa mi piace moltissimo. Tredicesima domanda, ed il film di Natale? Allora, film di Natale, ce n'è tantissimi, in questo momento magari me ne vengono due, però sicuramente ne dimentico qualcuno più importante, però Mary Poppins, oppure Pomido Ottoni e Manici di Scopa, questi proprio che avvolgono, diciamo, una famiglia, ecco. Quattordicesima domanda, a Natale l'atmosfera è magica? Sì, per me l'atmosfera è magica. Io credo che a Natale, sono rimasta bambina per questo, io credo che a Natale possa succedere di tutto, persone che si rincontrano dopo tanto tempo e magari fanno pace, oppure che ci sia un attimo di pausa per, magari, nei cuori delle persone, ecco. Quindicesima domanda, cosa chiedi a Babbo Natale? Allora, a Babbo Natale, io chiedo la serenità in generale e poter rivivere la gioia del Natale con le persone a me care. Sedicesima domanda, tagga chi vuoi? Allora, io taggo veramente tutti, vi chiedo solo la gentilezza, ecco, di magari scrivere che quando ripeterete il tag, diciamo, le autrici del tag, ecco, questo vi chiedo. Io taggo, sono Tina F., la mia amica Caterina, sia lei che Melania Costantino, saranno sempre taggate nei miei tag un po' più simpatici, ecco. Poi taggo Riccardo del canale True Colors, poi taggo un canale che mi piace tantissimo, è molto semplice, lei è molto graziosa, molto gentile, e parlo del canale Dolci in Paradiso. Poi taggo Annalisa Chiari, Poi taggo Annalisa Chiari,